Vota Gigantelli Sindaco Dai il tuo consenso forte e determinato per guardare al futuro con fiducia e ottimismo Per guardare al futuro con fiducia e ottimismo Con fiducia e ottimismo Fiducia e ottimismo Torna al collega Antonio Gasparo per ritorno verso i problemi di tour Parliamo di cinema Parliamo di cinema A Turi c'era un cinema E sono tanti anni che non c'è Non si proiettano più film Anche se la struttura c'è Questa struttura Sono parecchi anni che non è funzionante Voglio sapere che cosa ne facciamo di questa Che si chiama cinema Excelsior Voglio sapere che cosa ne facciamo di questa struttura Noi abbiamo messo nel nostro programma L'intenzione di inserire tutto un contenitore Sia quello al coperto Sia tutto uno slargo Che noi chiamiamo largo a pozze All'esterno In un concorso di idee E di recupero Che vada nella direzione Di realizzare una struttura Polifunzionale Adatta a creare Occasioni di fruibilità Per i giovani Specialmente durante i mesi estivi Per fare una serie di attività Perché Atturi adesso ha preso piede anche Con grande bellezza Devo dire Con grande impegno Da parte dei giovani Dell'oratorio Anche l'esperienza di un nuovo teatro E quindi vuol dire Che il cinema non è soltanto il luogo Della rappresentazione dei film È anche il luogo Della rappresentazione Delle proprie capacità teatrali Per quanto riguarda La mia carriera Diciamo politica E si inizia nel 97 Con un impegno Nelle liste Di alleanza nazionale E da sempre Sono impegnato Nel portare avanti Un discorso di coerenza Impegnato Nel portare avanti Un discorso di coerenza Un discorso di coerenza Per quanto riguarda La mia carriera Diciamo politica E si inizia nel 97 Con un impegno Nelle liste Di alleanza nazionale E da sempre Sono impegnato Nel portare avanti Un discorso di coerenza 세상 stet Telegram Un sairnale E da sempre Un discorso di coerenza Nel portare avanti Un discorso di coerenza Un gestor di Roma Ti salutiamo con la nostra faccia sotto i tuoi piedi e poi muoverti quanto ti pare piace e noi zitti sotto. Noi zitti sotto.